autostima alta o bassa l'autostima cos'è e quello che passa fra quella che è la percezione di sé come dato oggettivo chi siamo veramente la nostra capacità di reagire la modalità di reazione di comunicazione a situazioni che affrontiamo giornalmente a confronto con quello che è il sé ideale quello che vorremmo essere o che sentiamo in potenza di poter essere ma che non siamo ancora quindi un campus sull'autostima cosa bisogna aspettarsi bisogna aspettarsi di far incontrare questi due mondi essere veramente chi noi sappiamo di poter essere chi noi desideriamo di essere e giocare a quel gioco grande tutto diventa più leggero tutto diventa semplice tutto diventa con il colore giusto al momento giusto e poi ce lo portiamo nella vita sempre campus sull'autostima senegallia dal 26 al 30 agosto bambini ragazzi adulti vi aspettiamo ciao